ragazzi comunque proverò a far vedere tipo anche la mia faccia quando reagisco che meglio sì anche le video anche la mia faccia però però ti potevo devo mettere devo fare un video su sul mio ipad dopo fare il video del coso horror e vedere la mia faccia in un altro video ma se posso metterlo in quel video così o prima vedete il video o prima vedete come reagisco io così con la webcam e provo a fare delle cose come fare quindi ci vediamo domani ciao ciao